molte volte mi avete domandato se nella scilla la pratica edilizia per le opere quelle minori proprio ha bisogno di indicare obbligatoriamente la fine lavori sia una durata se obbligo nominare incaricare il direttore dei lavori lo scoprite seguendo questo video fino a un fondo sono carlo paglia ingegnero urbanista qua trovate i miei riferimenti social e telegram youtube e soprattutto il mio blog a cui potete chiedere consulte pareri tecnici e allora io direi di andare anche a leggere materiale che ho preparato da dove si parte si parte ovviamente dal testo unica edilizia poi ci sarebbe anche da dire come al solito guardate tenete d'occhio le norme regionali perché probabilmente anche in questo spazio le regioni ci hanno voluto mettere un po lo zampino spesso gli piace fare allora cos'è la scilla brevemente però è una comunicazione inizio lavori asseverata la troviamo nell'articolo 6 bis del testo unico asseverata da chi da un tecnico abilitato ingegnere geometra architetto e ammette la possibilità di comunicare l'inizio lavori infatti è un è essa stessa la comunicazione inizio lavori per tutte le opere che non ricadano né in ambito di edilizia libera né ambito permesso di costruire né scia quindi tutti interventi diversi da quelli che rientrano questa categoria vanno in cila e ovviamente è una comunicazione inizio lavoro lo dice il nome non ho bisogno di fare un'ulteriore comunicazione inizio lavori questo è un po anche un qualcosa di analogo alla cilas diciamo alla sorella minore arrivata per il superbonus ok la cilas esige che il cittadino rispetti tutte le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei regolamenti edilizi comunali della disciplina urbanistica edilizia vigente e comunque nel rispetto di tutte le norme di settore avente incidenza sull'attività edilizia e tra le tante quindi comunque le dovete rispettare tutte ma tra queste dovete soprattutto rispettare le norme antisismiche di sicurezza anti incendio igienico sanitarie efficienza energetica vincolo rischio idrogeologico e codice del bene culturale paesaggio questo è l'antipasto ora andiamo all'arrosto il cittadino lui trasmette al comune l'elaborato progettuale e la cila asseverata da chi quindi presenta una comunicazione inizio lavori sì ma viene asseverata da un tecnico abilitato lui tecnico a testa sotto sotto la propria responsabilità tante cose di nuovo praticamente quelle che abbiamo letto prima e vengano ribadete che siano conformi agli strumenti urbanistici approvati ai regolamenti edilizi vigenti nonché che siano compatibili con la normativa antisismica quella di rendimento risparmio energetico in edilizia e che non c'è interessamento delle parti strutturali quindi lui assevera questi aspetti lasci la contiene anche i dati identificativi dell'impresa e fin qui è il quadro introduttivo ora veramente rispondiamo alla prima domanda che abbiamo visto all'inizio e che rimetto vale a dire rileggiamola c'è un obbligo di fine lavori ecco la risposta io la risposta ce l'ho qui al terzo comma per le cila ove la comunicazione di fine lavori e si accompagnata dalla prescrizione dalla prescritta documentazione per la variazione catastale quest'ultima è tempestivamente inoltrata dal comune al catastro sì certo come no non funziona così e l'aggiornamenti a tastali non nessuno mi ha mai detto che ha dato il dischetto o la chiavetta con la variazione fatta col doc fa il comune il comune a se divertito lui a mandare doc fa al catastro no no assolutamente no quindi questa fate finta non ci sia scritta però leggiamo e le ci interessa intanto mi dice dove la comunicazione di fine lavori si è accompagnata dalla variazione catastale la posso dare quest'ultima il catastro va mandata al comune e il comune a sua volta la manda al catastro ecco quello ci interessa è che ove la comunicazione di fine lavori quindi la prevede cioè qui c'è una doppia condizione se c'è una comunicazione di fine lavori più la variazione catastale questa ci pensa al comune a mandarla al catastro il concetto è questo ma qui si legge tra le righe anche senza girarci intorno che la fine dei lavori ci vuole va fatta se poi insieme alla fine lavori ci mette anche il catastro ecco sì come ti devi comportare il succo è questo quindi quelle dicono no ma io la fine lavori non la faccio io ho sempre detto ragazzi fatela nel dubbio fatela anche perché se poi avete pure delle agevolazioni fiscali in ponte la fine lavori da un punto fermo sulla vostra responsabilità cioè i lavori anche da un punto di vista fiscale sono stati ultimati a quella data poi è qui veramente sempre in riferimento alla comunicazione di fine lavori obbligatoria o meno se ci fosse anche un altro dubbio ce lo possiamo togliere guardando la versione del modulo unificato standardizzato nazionale 2017 18 poi ovviamente anche qui le regioni ci hanno voluto rimettere le mani ma il concetto è questo guardate qua cosa ci dice che in data tal dettagli sono stati ultimati completamente o la famosa fine lavori parziale come da planimetria legata rispetto a cosa rispetto a il titolo e o comunicazione che ha legittimato l'intervento è il seguente tipo di pratica sci ha permesso protocollo numero del ma qui si parla di comunicazione la possiamo intendere che per comunicazione si intende appunto la cila io riterrei proprio di sì il dubbio non c'è anche a volesse attacca sugli specchi ma qualcuno mi dirà no ma qui per comunicazione intendeva dire scia ma insomma il permesso un titolo abilitativo la scia va considerata un titolo a formazione tacita un titolo edilizio a formazione tacita la cila è una comunicazione quindi io credo il legislatore quando ha fatto la riforma ne dello scia 2 nel 2016 il problema se l'era posto sull'obbligo o meno della fine lavori nella anche valevole per la cila cari tecnici ma volete essere responsabili sempre soprattutto se fate i direttori dei lavori su queste pratiche che ora andiamo a vedere perché tutto ha un inizio ma tutto deve avere anche una fine prepariamo la questa comunicazione di fini lavori e quindi diamo al comune i termini di validità di questi interventi ok allora ora si va a rispondere anche a un'altra domanda c'è un periodo c'è una durata massima di validità della cila nel permesso e tre anni nella scia tre anni e la cila boh punto interrogativo nessuno lo sa ma io gli interventi che mi rientrano un cila allora ci posso stare uno due decenni astrattamente sì io il consiglio che ma veramente spassionato che vi voglio dare è faccio finta che sia una scia e non lo è io mi porrei comunque come il limite massimo tre anni anzi prima è meglio è questo mi permetterei di dire cioè non farei conto tanto non c'ho una durata massima oltre la quale scade la scila ecco come consiglierei per evitare poi problematiche quando poi dovessero sorgere problemi in cantiere o dopo il cantiere quindi a maggior ragione i tecnici farebbero bene per la propria responsabilità e la propria pelle a dare una fine dei lavori ponendosi una durata massima 12 anche tre anni ma non andrei oltre tre anni veramente ultima ultima veramente risposta da dare a questo video prima di andare avanti però mi farebbe davvero grande piacere se mettete un bellissimo like se vi iscrivete ai vari canali ai vari profili social che vedete qui e che vedete qua sotto oppure se mi contattate dal blog per richieste dei consulti e pareri e appunto qual era l'ultima domanda che ci siamo posti eccola ma è obbligo il direttore lavori e qui bisogna andare a pescare da un'altra parte perché qui nella norma il tecnico è chiamato solo per asseverare l'elaborato progettuale e la scila tecnico quando ha fatto quello è libero è stata preparata la scila è stata depositata è stato asseverato tutto la manda con pec la manda con i portali dei comuni va tutto bene il tecnico ha finito il proprio operato non ha più da fare nulla e ma allora ci vuole o non ci vuole direttore lavori la norma non ce lo dice il testo unico allora cosa si va a vedere andiamo a vedere la modulistica unificata della scila questa è una versione 2018 nazionale versione editabile o le regioni hanno le hanno integrate però non hanno tolto il punto e ci interessa con le scila ora si cominciano a fare tanti interventi interessanti e di un certo impatto anche a frazionare gli immobili a frazionare un appartamento che fate fate tutte queste opere ovviamente poi farete anche un po di impianti direttore lavori lo vorrete usare come riferimento come tutela cioè quella figura professionale che vi possa evitare gli abusi edilizi le difformità errori di cantiere errori esecutivi materiali scadenti materiali sbagliati cioè quel direttore lavori li lo so che costa ragazzi grazie però è quella figura che se lavora bene vi evita problemi prima durante dopo il cantiere qualcuno vi dovrà preparare i capitolati qualcuno vi dovrà vigilare sulle aziende che le imprese verranno a lavorare poi c'è anche la questione sicurezza chi gestisce poi in quella quella specie di anarchia se non c'è il direttore lavori andiamo ora a vedere tra i soggetti coinvolti nella modulistica unificata quindi quel particolare allegato che troviamo in ogni cila quali sono i soggetti appunto obbligatori o meno ovviamente titolare cioè il proprietario lui ci va inserito poi vediamo il quadro dei tecnici tecnici incaricati compilare obbligatoriamente c'è scritto proviamo anche a zoomare così si vede ancora meglio eccolo e ho il progettista delle opere architettoniche sempre necessario c'è scritto e può coincidere anche con il direttore dei lavori quindi progettista direttore lavori da un punto di vista architettonico coincidono possono incidere possono anche non coincidere direttore dei lavori delle opere architettoniche solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche avete notato nulla di strano ve lo dico io se c'è di strano qui ho un quadro che mi dice tecnici incaricati obbligatoriamente e mi dice progettista delle opere eventuale coincidenza direttore lavori e direttore lavori e ma a me mi sembra di vedere che allora anche il direttore lavori è obbligatorio nella scila io ho sempre consigliato di nominarlo di di incaricarlo perché è comunque quella figura che vi tutela la esecuzione regola d'arte secondo progetto o che vi tutela soprattutto sulle varianti le modifiche in corso d'opera vi tutela se un'eventuale impresa falla furba mentre per quanto riguarda andando avanti nello stesso modulo tecnici incaricati progettista delle opere strutturali solo se necessarie voi mi direte come le opere strutturali nella scila ho non sempre detto che le opere strutturali nella scila non ci vanno è vero le opere strutturali su edifici non va bene perché perché mi fanno andare nella categoria di ristrutturazione edilizia nel restauro e risanamento pesanto nella manutenzione straordinaria pesante avete ragione il fatto è che questa è una previsione residuale che mi impone il cosiddetto decreto scia 2 rete legislativo 222 2016 che mi dice tuttora perché ancora c'è nell'allegato a mi dice guarda che la la scila rimane una pratica residuale a tutte le altre quindi residuale da permesso scia ed edilizia libera ma se si vanno a scorrere c'è una rarissima ipotesi in cui un intervento non su un edificio o parte d'edificio costruzione ok possa quindi un'opera che non si fa sull'edificio ma che contempla opere strutturali si possa fare in cila voi mi direte fammi un esempio mi viene a mente una recinzione che però ha anche opere strutturali una recinzione ovviamente un murettino un certo tipo un murarretta no perché si va a fa anche una modifica diversante lì mi andrà sicuramente in permesso ma se ci svanno a pensare tutte possono saltare rarissime ipotesi sugli edifici perché siamo spesso abituati a ragionare sugli edifici a volte si fanno opere che non riguardano edifici esistenti e allora potrebbe molto condizionale è veramente potrebbe capitare di rientrare in cila bene allora abbiamo fatto un po il quadro generale della situazione io a questo punto esco dalle slide video se vi è piaciuto questo video potete mettere un like like sono qua bene o iscrivervi al canale youtube canale telegram seguirmi dai vari riferimenti social e soprattutto dal blog studio tecnico pagliai punto it con questo è tutto allora ci diamo appuntamento ai prossimo video live premiere a tutti i contenuti che pubblico anche su il mio blog e vi auguro a tutti un grandissimo buon lavoro e buona attività professionale ciao a tutti